Questa statua di Shiva l'ho presa in una cittadina del Tamil Nadu in India, è una rappresentazione che si chiama Shiva Natarasha, vuol dire re della danza. In un cerchio di fuoco la divinità indiana fa una danza che è la danza del crescimento e della distruzione. Shiva mi è sembrato un simbolo estremamente interessante che riassume la vicenda del viaggio che ha accresciuto le nostre conoscenze ma anche contribuito purtroppo alla distruzione del nostro pianeta. Ne parlo nel mio ultimo libro, La conquista della lontananza, viaggi, incontri, scoperte. Della figura di Shiva Natarasha si sarebbe occupato nel 1975 Fridiot Capra, il grande fisico austriaco, leggendolo a simbolo della fisica moderna e dal 2004 una statua come questa di Shiva alta due metri è stata collocata dono del governo indiano davanti alla sede del CERN di Ginevra.